La Puglia ha migliorato la qualità del proprio servizio sanitario e ha così ottenuto dai Ministeri della Sanità e dell'Economia lo sblocco di 72 milioni di euro. A farlo sapere lo stesso ente si è tenuta, infatti, la riunione di verifica degli adempimenti LEA, i livelli essenziali di assistenza e del programma operativo tra il tavolo congiunto del Ministero delle Finanze e del Ministero della Salute e la delegazione pugliese del Dipartimento Salute e dell'Ares. I rappresentanti ministeriali hanno comunicato la positiva conclusione delle verifiche degli adempimenti LEA 2019, certificando per la Regione Puglia il pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati. La Puglia è salita dai 155 punti del 2015 ai 193 del 2019. 21 punti sono stati accumulati solo negli ultimi due anni. È stato inoltre verificato positivamente il bilancio consolidato 2020 della Regione Puglia che ha garantito l'equilibrio dei conti e la copertura di tutti i costi sostenuti nonostante la gestione della pandemia Covid-19. La certificazione mostra i notevoli miglioramenti raggiunti dalla Puglia nella propriatezza dei ricoveri, nella riorganizzazione dell'assistenza territoriale e nella prevenzione, in particolare nel settore delle vaccinazioni. Continueremo a consolidare i progressi raggiunti con una pianificazione strategica che guardi ai prossimi tre anni in una prospettiva di rilancio post-pandemia e innovazione. Così commenta il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro che aggiunge tutto questo grazie anche ai finanziamenti che giungeranno con il PNRR. Grazie a tutti.